Ciao a tutti! In questi giorni mi sto portando avanti con i regali di Natale e sto preparando la mostarda di cotogne. Portate pazienza perché è una ricetta facile ma che richiede qualche giorno di attesa per essere completata e in via del tutto eccezionale sarete felici di potervi avvalere della forza brutta di un uomo in cucina per tagliare le cotogne a pezzi e in un secondo momento vi sarà d'aiuto anche una buona fettatrice. Oggi sono il secondo giorno di lavorazione, restate quindi sintonizzati che manca poco. Buona domenica a tutti, ciao!